Buongiorno, sono Ana Longo, consulente immobiliare Remax Stella Polare. Oggi vi propongo una casa circondata dal verde. Siamo in uno dei quartieri più richiesti della città per la tranquillità, ma allo stesso tempo a pochi passi dalle prime attività commerciali, nelle vicinanze dell'I-Hotel e della chiesa Mater Ecclesiae. Ci troviamo precisamente nella zona residenziale di Poggio Franco, dove proprio qui alla mia destra visiterete un appartamento dotato di ampi spazi. Seguitemi e lo scopriremo insieme. Siamo in via Papa Giovanni Paolo I, dove all'interno di questo stabile, si colloca al quarto piano l'unità abitativa. Andiamo! Benvenuti! All'ingresso siamo accolti da un disimpegno dal quale si dislocano gli accessi alle varie camere. Subito a sinistra, con affaccio su un ampio balcone, si colloca il salone doppio. Di seguito una comoda cucina, una prima camera da destinare eventualmente a studio e continuando lungo il corridoio, altre due spaziose camere, due bagni e un ripostiglio. Completa la proprietà, una pertinenza a cui non poter rinunciare, ovvero un posto auto in garage e la possibilità di usufruire di un altro a rotazione. Uno dei vantaggi per chi acquista questa casa è che può personalizzarla in base alle proprie esigenze, avendo la stessa una disposizione regolare con doppia esposizione e con affaccio su spaziosi balconi. Altro aspetto da non sottovalutare è la luminosità come avrete potuto notare. La soluzione si presta ad essere acquistata anche per investimento, decidendo di frazionare l'immobile o semplicemente di metterlo a reddito, considerando la vicinanza alla facoltà di economia e commercio. Cos'altro dire? Contattatemi e verificherete di persona le potenzialità di questa casa, la vostra casa. A presto!